Eccomi qua, salve, ben ritrovati, ciao a tutti ragazzi. Allora, allegro e elegantissimo oggi in conferenza stampa, tutto marcato Juventus, anche oggi mi sono messo una delle felpe che ho acquistato l'altro giorno che vi avevo fatto vedere anche il live su Twitch, quindi abbiamo una cosa in comune, io e il buon Max parliamo della partita, anzi della conferenza stampa che preparerà, che varrà ad anticipare la partita, che siamo alla vigilia di un martedì di calcio, strana come cosa, però è così e quindi domani andiamo a Salerno, ci giochiamo, come dice Allegri, uno scontro diretto e cerchiamo di modificare la classifica. Un Allegri che è stato una sorta di martello pneumatico, nel senso che a qualsiasi domanda dava la stessa risposta, ma lo andiamo a vedere ovviamente all'interno di quella che è stata la conferenza stampa che mi sono trascritto, quindi iniziamo perché dice Allegri, la partita di domani è complicata, è un ambiente difficile ed è sempre spinto anche dai tifosi. Nicola sta facendo bene, ha vinto l'ultima Lecce, sarà difficile come tutte le partite di campionato, questo ormai è un ritornello, abbiamo imparato a conoscere Massimiliano Allegri, sappiamo che questa cosa le dice sempre per qualsiasi squadra, non gli ho mai sentito dire domani è una partita facile e questa è la sua linea comunicativa. Serve il piglio giusto, serve mettersi alla pari della salernitana, anche questa è una cosa che abbiamo già sentito tantissime volte in una conferenza stampa di vigilia rispetto a una squadra che sulla carta ha un livello inferiore alla Juventus, vedendo la classifica è scontro diretto, 21 punti contro 23 e dobbiamo rimanere davanti. Quindi questa è un po' la fotografia di Massimiliano Allegri alla domanda fatta da Juventus TV, quindi concordata con l'allenatore e questa bene o male è un copia e incolla generale perché questa risposta verrà data un po' a tutti i giornalisti, un po' modificata, un po' implementata se vogliamo, ma bene o male la ciccia grossa è sempre la solita. Allegri c'ha parte Bonucci che ha l'influenza da tre giorni e Pogba che al solito Paredes ha un fastidio alla zampa d'oca e non sarà convocato. La zampa d'oca, mi ha fatto molto ridere. Tutti a disposizione a parte Kai Orge, in realtà aggiungo Io Milik che Allegri è già la seconda volta che si dimentica di mettere all'interno dell'elenco dei giocatori indisponibili, non so se perché ha poca considerazione o non è abituato a dire che Milik non è fuori, non ho idea. E poi De Sciglio dice Allegri, De Sciglio sta bene fisicamente ed emotivamente, sereno e tranquillo perché Nicola Balice gli fa notare che comunque ci sono stati i fischi all'Allianza Stadium e ci sono stati anche degli insulti sui social per quello che è accaduto, lato stipendi sappiamo che De Sciglio è andato in procura, ha dato una sua versione dei fatti che potrebbe inguaiare la Juventus. Allegri dice, un calciatore della Juve è importante come tutti gli altri, è serio e professionale, i social purtroppo hanno situazioni spiacevoli tutti i giorni, sono uno schermo dove si nascondono persone in modo brutto, purtroppo il mondo è così, funziona così, non va dato importanza a quello che accade. Allora, io ovviamente poi non sono d'accordo, nel senso che sì, ovviamente c'è una parte di social che è da condannare, una parte di social che è brutta, che è violenta, non è che tutti i social sono così, questo mi sembra un discorso da persona che è, ma i miei tempi si stava meglio perché i social non c'erano, Max, e ovviamente te lo dice uno che con i social ci lavora, con i social si diverte, danno anche delle grandi grandissime soddisfazioni, quindi non è tutto da puntare il dito, non è tutto da etichettare, quindi come in tutte le cose ci sono le cose negative e le cose positive, anche la pistola è un ottimo strumento di difesa, se viene utilizzata per fare una rapina non diventa più lo strumento per la quale è stata pensata, quindi non andiamo a mettere il demonio all'interno di tutti i social perché assolutamente non è così, anzi abbiamo la fortuna qua di avere una forte community da tinte bianco-nere senza i social, questo sarebbe stato decisamente più difficile, non dico impossibile, però tante persone non sarebbero mai venute a contatto anche delle amicizie magari che sono nate all'interno di questo percorso che ormai sto compiendolo a quasi dieci anni, dato che abbiamo iniziato nel 2014, questo è il nono anno di attività su internet lato sport. Il recupero di Bonuccio è in linea, l'influenza però l'ha bloccato, abbiamo bisogno anche di lui, c'è bisogno di tutti nelle prossime partite, dobbiamo andare avanti in Coppa per riprire il calendario, abbiamo due partite di campionato, poi ci tufferemo in Europa League. Apro e chiudo parentesi a proposito del mondo social e delle amicizie, stamattina io e Davom ci siamo comprati due biglietti per andare a vedere Juventus-Nant di Europa League, quindi giovedì 16 ci trovate allo stadio, saremo allo stadio insieme, tra l'altro ci sono anche Kinelello, ma loro avevano già presi i biglietti. Io come vi dicevo da un po' di tempo ho bisogno di andare allo stadio, ho bisogno di respirare nuovamente quell'aria di Juventus dal vivo e quindi mi sono comprato immediatamente il biglietto, io e il buon Davom andiamo allo stadio insieme, ci guardiamo questa partita Europa League insieme, di fianco, dopo vi darò anche il settore, devo guardare il biglietto, non ci ho pensato a tirarmelo fuori, mi pare 220, il settore 220, quindi se siete disponibili ci vediamo lì, se siete interessati invece date un'occhiata perché comunque i prezzi sono relativamente bassi e ci sono ancora tanti biglietti disponibili e potete acquistare il vostro biglietto. Ci vediamo ovviamente allo stadio e ci tufferemo dall'Europa League tutti insieme e ovviamente dato che siamo io, Kino, Lello e Davom allo stadio contemporaneamente, perderemo 10 a 0, giù di lì, qualcosa di simile. Cambio sistema? Difficilmente, no, credo di no. Dusan sta bene, è anche più leggero e dinamico rispetto a quando è arrivato, spero che domani faccia gol e poi ovviamente tutte le volte, ma davvero tutte, fateci caso, quando gli viene chiesto di Vlaovic, Allegri risponde con Ken, butta Ken all'interno della conversazione, è già successo più volte e anche in questo caso dice e anche Ken sta bene, lasciarlo fuori, ora mi è difficile e qua già ci dà una sorta di lettura, Vlaovic sta bene, deve giocare, spero che domani faccia gol, però attenzione che anche Ken sta bene, lasciarlo fuori mi è complicato, quindi Ken domani non parte dal primo minuto vi viene da dire, partirà Vlaovic, però attenzione che lasciare fuori Ken mi dispiace, credo che sia un po' la lettura conoscendo il modo di ragionare di Allegri, perché poi dice è importante, è cresciuto dal punto di vista mentale e tecnico, non è ancora al 100% ma sta diventando un calciatore importante, lasciarlo fuori mi dispiace molto proprio Ken, mi dispiace lasciarti fuori, sei bellissimo, fortissimo, sei cresciuto, sei dimagrito, però domani speriamo che Vlaovic faccia gol, poi dice non è che Vlaovic ha bisogno di giocare, io faccio giocare chi mi fa vincere le partite, ora Vlaovic sta bene, addirittura molto di più, una corsa più leggera rispetto a quando è arrivato dalla Fiorentina, ha bisogno di fare gol come tutte le punte, ora Vlaovic l'ho visto abbastanza fuori forma io, in realtà, l'altro giorno in Copitalia con la Lasse, poi è ovvio che tornava da un lungo stop, quindi c'è bisogno ovviamente di mettere fiato, c'è bisogno di mettere minuti nelle gambe, non credo che abbia una corsa migliore in questo momento rispetto a quando è arrivato da Firenze, però sperando che i problemi di pubalgia siano ormai superati, possiamo iniziare a ragionare di avere un Vlaovic in forma per quest'ultima parte di stagione. Poi Allegri dice darsi obiettivi, sesto, settimo, quinto posto è impensabile, oggi siamo tredicesimi, dobbiamo scalare partendo dalla dodicesima, domani è da vincere, è tre partite che non vinciamo, abbiamo fatto un punto in campionato nelle ultime tre, bisogna riprendere il cammino. Allora, io sostanzialmente, anzi solitamente, non sono d'accordo con questa linea, nel senso che quando sei la Juventus devi avere le idee chiare, perché se vuoi vincere, e ne vince sempre solo una, devi cercare di avere ben chiaro l'idea di quello che è il calendario, farti una sorta di tabella punti, cosa che immagino che si faccia anche Allegri, ricorderete facevamo i road to una volta, mese per mese, noi li facciamo da un po' di tempo a questa parte, perché? Perché ovviamente ora l'evento se non è la squadra che deve vincere, l'evento assaggio è un'altra roba, ma ho ragione in questo momento in cui c'è l'incertezza. Ieri abbiamo fatto un video in cui parlavamo dell'eventuale recessione contrattuale di Pogba, il rinnovo di Di Maria, e dicevo ragazzi in questo momento ha poco senso parlare di queste cose, così come vi dico in questo momento ha poco senso parlare di obiettivi legati al campionato. Il giornalista è ovvio che vuole il titolo, vuole scrivere, però io capisco anche Allegri che in questo momento ti dice, oh amico mio, siamo tredicesimi, dobbiamo arrivare dodicesimi domani, dobbiamo vincere e dobbiamo arrivare dodicesimi, non ci può essere un obiettivo a lungo raggio, anche perché non sai se questi punti te li daranno, non sai se te ne toglieranno altri per un altro filone di inchiesta. Quindi in questo momento ce la batte la Salernitana, che è a due punti meno di noi, è vicino a noi e dobbiamo raggiungere la posizione più vicina a noi possibile con una vittoria, anche perché tre partite che non vinciamo. E qua sono d'accordo, è inutile guardare troppo in là, è inutile guardare oltre. Io capisco il giornalista che vuole fare il titolo, così come capisco Allegri che in questo momento ti dice, amico mio, noi una cosa sola dobbiamo fare, dare a Salerno e portare a casa tre punti, perché se non facciamo neanche questi tre punti con la Salernitana diventa molto complicata la situazione sia di classifica sia di ambiente. Infatti poi Allegri dopo dice una cosa che vedremo comunque. Domani c'è l'ipotesi tridente, dice, ma non ho ancora deciso. Abbiamo tanti giocatori che rientrano nei infortuni con tanta attività, poi c'è la Fiorentina. Ci sono delle valutazioni da fare, poi a seconda di queste decido. Più i giocatori tecnici ci sono, meglio è, però poi tutti devono mettersi a disposizione della squadra perché se no non reggiamo. Allora io credo che la Juventus possa assolutamente sacrificare tra virgolette un centrocampista per avanzare, per inserire un attaccante se si vuole rimanere con la difesa 3. In caso contrario si può benissimo andare 4-3-3 o 4-2-3-1 che dir si voglia, a seconda se vuoi il vertice alto o il vertice basso di quanti centrocampisti vuoi. Quindi credo che questa sia una strada percorribile dalla Juventus e soprattutto perché in questo momento sono rientrati tanti giocatori che magari non avevi e ti eri adattato con un sistema di gioco che aveva dato buoni frutti, aveva portato dei risultati. Ora credo che non sia più tempo di continuare su quella strada lì, o almeno non totalmente, perché se no vai a sacrificare le caratteristiche individuali dei calciatori che hai di punta, di riferimento. Puoi chiedere a Di Maria di sacrificarsi sempre come trequartista, non puoi chiedere a chiedere di fare il terzino, bisogna che queste caratteristiche e queste qualità vengano messe in risalto in primo piano. Quindi in questo momento secondo me la Juventus dovrebbe quantomeno provare un passo in avanti rispetto a quell'altro passo che era stato il 3-5-2 che in quel momento aveva senso. Si vuole rimanere con la difesa 3? Benissimo. Ora si mette il 3 dentro avanti, si toglie un centrocampista. Il 3 dentro lo vuoi mettere però poi la difesa 3, paura che no, allora 4-3-3. Se no 4-2-3-1. Però 4-2-3-1 mi sembra un po' lontano da quello che può veramente far esplodere Chiesa di Maria così, conoscendo il 4-4-2 in fase di non possesso di Massimiliano Allegri. Quindi non credo che quella sia in realtà la scelta migliore. Comunque vediamo e vediamo che cosa succede. Poi dice Chiesa sta bene, ha fatto una buona partita. Poi dice, psicologicamente bisogna stare sempre bene, a prescindere da tutto. Noi non abbiamo altre scelte, è un dato rifatto. Ci hanno tolto 15 punti e dobbiamo lavorare per raggiungere quelle davanti. Quello che vi dicevo all'inizio, questo concetto ribadito, spalmato in più salse, è stata fatta una sorta di ti dico sempre la stessa cosa ma te lo dico con parole diverse. Questo è l'obiettivo della Viventus di oggi, questa è la linea guida di Massimiliano Allegri che è un po' quello che dicevamo anche l'altro giorno quando Post Last dice, oh, Juve Salernetano è uno scontro diretto. Ci puoi dire poco e niente. Poco e niente. Fagioli è cresciuto molto. In un momento dove mancavano tanti giocatori ho messo dentro i giovani che hanno dato risposte importanti. In quel momento di difficoltà hanno portato tecnica e coraggio. Hanno giocato molto. Lui, Miretti, Sule e Eiling stanno lavorando bene. Giusta strada. Possono migliorare. Io qua sono d'accordo, però poi torna sempre fuori quel Napoli-Juventus in cui centrocampo titolare Locatelli, Rabiome e Kenny con fagioli in panchina. E lì mi viene a dire. Punto di domanda. Per quale motivo? È la strada giusta. È un titolare, lo stiamo vedendo. È sempre titolare, però poi quando c'è stato il momento della partita super deciva, tac, passo indietro. Andiamo a farne due avanti, non uno indietro. Siamo dei gamberi. E poi Allegri qua va a prendere in considerazione ancora il macro discorso che vuole far passare all'interno della conferenza stampa e dice ha detto bene. È l'ultima frase che ha detto. Non si saprà se ce li ridaranno. Noi bisogna fare bene sul campo. Alibi non devono essercene. Con il Monza abbiamo fatto un brutto primo tempo e l'abbiamo pagato a caro prezzo. Non possiamo staccare la spina in campionato e giocare solo in Coppa. È impossibile. Io qui volevo arrivare. Io qui volevo arrivare perché ve l'ho detto anche l'altro giorno nell'analisi di Juvelastro. Ma Juvelastro ragazzi non è piaciuta. Ve l'ho già detto. Vi ho spiegato le motivazioni. Tanti non sono d'accordo con me. Io sono contento quando ci sono persone che non sono d'accordo perché nasce dialogo, nasce discussione e si vedono le cose un po' da due punti di vista differenti. La Juve siccome ha meritato la vittoria ma c'è stato troppo poco. C'è stato troppo poco. È vero che la Lazio ha fatto ancora meno e quindi la Juventus è riuscita a portarsi a casa la vittoria ma in questo momento qui a me piacerebbe vedere una squadra che dà una reazione, che prova una reazione. Proprio perché questi sono giocatori che erano abituati a dover competere per i piani alti della classifica. Ora devono competere per tutta un'altra cosa. E quindi piacerebbe vedere intanto dei giocatori, qualcosa in più, che col Monza non ho visto. Assolutamente con la Lazio sì, a livello di atteggiamento. E allora poi, dato che i giocatori poi lì l'atteggiamento l'ho messo, qualcosa in più anche dall'allenatore. Che può anche essere banalmente il cambio di modulo di cui parlavamo prima e quindi cambio di sistema di gioco, cambio di meccanismi e si spera anche cambio di mentalità. Perché nell'ultimo anno e mezzo mi è sempre sembrato di vedere la Juventus al accontentiamoci che. E questo non sta portando risultati. Quindi se questa cosa ti porta risultati non c'è niente da dire, metodo di lavoro, hai ragione te, sta portando risultati. Dato che in questo momento non li sta portando, ed è un momento anche complicato, è un momento difficile in cui una reazione sarebbe molto apprezzata, piacerebbe vedere una reazione a parte di tutti. Quindi è vero, non si può giocare solo la coppa e lasciare il campionato. È ora di piantarla con questa cosa. Lo so bene che i 15 punti sono una mazzata, lo sappiamo tutti. È una cosa della quale siamo a conoscenza, ma bisogna giocarlo uguale. Perché se no il tifoso perché deve andare allo stadio? Se sa che poi il campionato non lo giochiamo perché tanto ormai o comunque non riusciamo. Cioè è questo il punto focale. Ci hanno tolto 15 punti, il giocatore dice sì ma io ho conquistato sul campo è un'ingiustizia. D'accordo? Però non è che puoi smettere di giocare. L'allenatore è stessa cosa. Quindi secondo me bisogna ragionare davvero quei 90 minuti in cui si va in campo bisognerebbe metterlo da parte. Poi capisco che in questo momento il calciatore pensa sì ma l'anno prossimo dove sono? Qui, là, su, giù? Mi rinnovano il contratto? Avrò possibilità di pagarmi l'ingaggio che voglio? Sono tanti discorsi, tanti ragionamenti che fa il calciatore giustamente perché è il loro mestiere. Però bisogna anche cercare di essere professionisti in questo e andare avanti. Fare un passo avanti, guardare avanti e ragionare sul fatto che si è comunque la Juventus. La Juventus, anche in una situazione del genere, bisogna provare a fare punti. Non si scappa da questa cosa qui. È un obiettivo. La Salernità ha due punti meno di noi. Il nostro obiettivo è prendere quella di sopra che è dodicesima. Questo ci permette di pensare un passo alla volta. Ancora una volta, l'ha già detto, ridetto, ridetto e ridetto. Però poi c'è una frase molto bella che è lavorare quotidianamente sul campo perché non abbiamo altra scelta, il nostro obiettivo. Questo mi riporta a Federico Chiesa Back in Track, di cui vi rimando a vedere la recensione se ancora non l'avete vista e se avete già visto la serie. Perché lavorare quotidianamente sul campo è la chiave, veramente. Quindi questa frase la sfrutto, questo Assis di Allegri, per mandarvi a vedere il video. In questo momento c'è un dato di fatto. Abbiamo 23 punti. Poi Allegri tira fuori ancora. Ora dobbiamo raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza. Mi viene da ridere, ma è così. A me non viene da ridere, sinceramente. Devo dirvi la verità. Proprio no. Qual è il primo obiettivo? Prendere il dodicesimo. Puoi scalare in avanti. Facendo così vinciamo le partite. Ora bisogna assolutamente fare questo. Questo ci permette di tenere alta la concentrazione in Europa League e poi in aprile in Coppa Italia. Fino adesso cosa abbiamo visto? Dieci risposte. Su otto c'era questo concetto del prendere quello avanti e bla bla bla. Io capisco che questo lo vuoi far passare, però diventa dopo abbastanza stancante. Un po' per tutti, secondo me. Nicolussi Caviglia è stato sfortunato che domani incontreremo come avversario. Però abbiamo accorciato e non riusciva a rientrare. C'era stato anche un'operazione non proprio andata a buon fine, da quanto ho capito. È bravo a giocare a calcio, sta dimostrando il suo valore e sono contento. La Juventus ha lavorato bene, ce ne sono tanti. Nicolussi, De Winter, Ranocchia, Rovella, Ealing, Miretti, Fagioli, Sule, Barrenecea, Barbieri, Wisen, dice Wisen proprio, 2005 dell'Under 23. Ci sono altri ragazzi di 2005 e 2006 che hanno lavorato bene e vuol dire che la Juventus ha lavorato bene negli anni. Allora io sono d'accordissimo che Juventus abbia lavorato bene negli anni perché quando era nato questo progetto Under 23 continuano a dire sì però non vediamo i frutti, non vediamo il concreto. In questo momento invece il concreto lo vediamo, lo tocchiamo, lo sentiamo e speriamo in questo concreto. Quindi me ne ho già parlato tante volte, secondo me Federico Cherubini che ha portato avanti questo progetto ha avuto un'idea molto buona, molto bravo a portare avanti, a far in questo momento arrivare anche tanti giocatori effettivamente all'interno della prima squadra o comunque in Serie A. Ieri sentivo Caressa che parlava del mercato, diceva mi sono guardato anche un po' di statistiche dei ragazzi di Under 23 della Juventus, tanti effettivamente stanno arrivando tra Serie A e Serie B, mi piacerebbe fare un video riepilogativo quando ci sarà un po' più di tranquillità lato campionato in cui andiamo ad affrontare questo discorso, magari anche una live per parlarne insieme potrebbe essere una buona idea. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi può piacere come discorso. Poi vabbè termina la domanda facendo un discorso un po' più generale e dice è possibile che magari tra cinque anni questi facciano parte in pianta stabile, magari non tutti, della Juventus prima squadra, poi dice una cosa in cui secondo me si perde perché dice l'Under 23 è la vecchia Serie C dove i ragazzi hanno un impatto diverso tra le partite, c'è troppa differenza tra l'Under e la primavera e invece l'Under è molto più vicino alla prima squadra. Allora sì, è vero, però comunque tanti giocatori della primavera vanno a giocare in Under, si fanno un paio di stagioni lì, Serie C è comunque un campionato complicato e sono un po' più pronti per la prima squadra, soprattutto se hanno delle caratteristiche importanti, no? Sentivo Aquilani l'altro giorno che parlava di questa cosa e diceva tra la primavera e il campionato di Serie A c'è troppa differenza, ci sono qualcosa come cinque categorie, ecco questo secondo me deve farci interrogare perché in questo momento siamo un campionato di transizione, siamo un campionato di passaggio, tutti, non prendiamoci in giro tutte le squadre di Serie A in questo momento, la Serie A in questo momento è il campionato a cui gli altri campionati maggiori vengono ad attingere, un po' come una volta era il campionato portoghese, un po' come una volta era il campionato francese, oggi siamo questo, non dobbiamo prenderci in giro e se tra la nostra primavera e la nostra Serie A ci sono cinque categorie è un problema. Sentivo anche Nesta l'altro giorno che parlava, ho sentito un intervento di Nesta alla Bobo TV che ha fatto secondo me un'uscita perfetta perché dice in questo momento ci sono gli allenatori delle giovanili che abbiamo pagato 200-300 euro al mese per fare questo lavoro, quindi niente, praticamente nulla. E allora cosa fanno? Ne approfittano per allenarsi loro, perché tu ci parli con questi allenatori dei giovanili e ti dicono, e beh stiamo iniziando a uscire da dietro a fare questo, e Nesta dice giustamente, ma l'allenatore delle giovanili dovrebbe dirmi, ho un ragazzino di 10, 12, 13, 14 anni che è fortissimo e quindi stiamo monopolizzando, stiamo cercando di migliorare gli altri per farlo fare come lui o cercando di mettere a suo agio lui, perché in quel momento lì devi formare il giocatore, non puoi fare la palestra dell'allenatore, ragazzino di 10 anni di uscire dietro non interessa, ragazzino di 10 anni deve sviluppare le caratteristiche per arrivare in mano ad un allenatore che poi gli deve insegnare quelle cose, ma non deve insegnare la tattica, non deve impararla a 10 anni, 6 anni, 5 anni quando fa scuola a calcio, quello è un discorso che va poi, quando arriva nelle primavere e lì l'allenatore allena se stesso, quando arriva nelle juniores, quando arriva nelle prime squadre, però per arrivare pronto a quei livelli lì significa che tecnicamente deve migliorare, c'è un problema in Italia con il calcio, c'è un problema e in questo momento di crisi noi dovremmo andare ad investire proprio lì sugli allenatori che vogliono far crescere i giovani, ma non giovani under 23 o primavera, ancora prima, ancora prima ragazzino proprio, dobbiamo investire nelle strutture perché le strutture in Italia sono imbarazzanti, perché poi vedi no? È quello che ci sta accadendo, infatti l'altro giorno quando guardavo, vedevi che ho chiesto a back in track, io vedevo le strutture della Juventus e dicevo abbiamo una fortuna di essere riusciti a crearci questa roba negli anni che è incredibile perché almeno le infrastrutture sono di livello molto alto, molto alto, sfruttiamole. L'under 23 è la nostra fortuna proprio perché come diceva Aquilani ci sono delle categorie di differenza, perché come diceva Nesta gli allenatori in questo momento allena loro stessi e non i giocatori, dei calciatori molto piccoli. Quindi secondo me questo è un problema da sviluppare, poi non so se è perché sto invecchiando e quindi inizio a vedere le cose in un modo diverso, inizio a starmi veramente a cuore, mi piacerebbe poter fare qualcosa di concreto nel calcio in Italia per queste cose qui, perché lavorare davvero con i ragazzini anche sul campo mi piacerebbe da matti, sono tutte strade che non dico no, non lo farò mai perché più invecchio e più mi rendo conto è vero che ci sono dei problemi alle fondamenta del nostro calcio e si guarda un po' troppo in là, si guardano delle cose che... ma lo vedo anche nei commenti, ogni tanto nei commenti mi capita di leggere della gente quando facciamo dei nomi per il mercato o nomi per gli allenatori per il prossimo anno che mi dicono sì ma questo in Champions che cosa ci fai? Ragazzi, basta eh, la Champions è là, le italiane la Champions non la possano neanche calcolare, le italiane la Champions non la possano calcolare, la Juventus in questo momento non può pensare di vincere la Champions, la Juventus in questo momento non può neanche pensare di vincere il campionato, in questo momento bisogna ripartire da quelle che sono le certezze e che saranno le certezze. Ce lo stanno dimostrando i cicli delle squadre che hanno vinto negli ultimi anni e sono mini cicli, mini cicli, perché le squadre sono rivelate tutte verso il basso, ma al Milan con la politica che ha attuato negli ultimi anni è riuscito a vincere un campionato, il Napoli con la politica che ha attuato nell'ultima campagna acquisti riuscirà molto probabilmente a vincere un campionato, sono queste le cose da fare in questo momento, non ci sono soldi, che cazzo pensi alla Champions? Che cazzo pensi al ragazzino che deve imparare? No, devi pensare a sviluppare i talenti, poi non ti escano più i Del Piero, i Nesta, i Maldini, i Totti e diceva perché? Perché in questo momento il calcio non è più come era una volta in Italia, non è vissuto nello stesso modo, non c'è l'investimento nello stesso modo, ma anche nelle categorie più basse banalmente, non ci sono più gli sponsor che vanno a dare il loro nome alla squadra, ma lo vedo io, lo vedo io nel calcio amatoriale addirittura, noi facciamo i salti mortali ogni anno per giocare a calcio, i salti mortali per giocare a calcio, ci autofinanziamo, dobbiamo tenere fuori i soldi, lo facciamo perché abbiamo la passione, lo vogliamo fare, amiamo questo sport, vogliamo farlo per passare quelle due sere a settimana in tranquillità, quell'ora e mezza, due tra partite allenamento. Oggi il calcio in Italia è difficile da far sopravvivere, difficile perché nessuno dà una mano, nessuno dà una mano al calcio e secondo me questa è una brutta realtà, è una brutta realtà perché il calcio è comunque una delle industrie che guadagna di più nel nostro paese, e guardate un po' negli ultimi anni la classifica delle industrie, dei guadagni che vengono dall'industria calcio, di quante posizioni ci siamo abbassati anno dopo anno, perché una serie di errori, una serie inenarrabile di errori, eppure si fa sempre finta che siamo sempre nel 2006 con la squadra che vince il mondiale, bla bla bla, è la Juve che deve vincere la Champions, queste cose qui. Ragazzi le cose cambiano e bisogna prenderne coscienza, se no è poi un problema. Ci vediamo domani!